Dai, guardate fuori. Vi do il benvenuto a Mopane. Grazie per l'ospitalità. Devo recuperare il rapporto con le mie figlie. Sono della mamma queste foto? Vedi, qui nella pancia. Ci sei tu. Mi manca ogni giorno. Ma che cos'è? C'è un uomo davanti a noi. Ragazze, non scendete. Restate dentro, chiaro. Restate dentro. Che è successo? Che cosa ha detto? Diavoro. Significa diavolo. Mai visto niente del genere. Molti attacchi senza mangiare la preda. I leoni non lo fanno. O almeno io non l'ho mai visto. Torna da le ragazze. Ma papà, è qui! Guarda di... Prendi il volante, devi guidare! Guida! Piano, piano. Respira. Respira lentamente. Siamo nel suo territorio. È la legge della giungla. Ed è l'unica che conta. Papà, sono armati. Non dovreste essere qui. Ma che cosa fate? Fermi! Fermi! Devo portare via le mie figlie. Ora fidatevi di me. Io tornerò. Non vi muovete, ok? Dove è andato? No, no, no. A presto. No! No!